Se c'è una cosa che non manca per le strade in tv sull'internet sono i messaggi. Non credete? C'è abbondanza di messaggi, li lanciano tutti, sembrano dei quarterback. Ho un messaggio per i giovani. Sei sovrappeso? Ho un messaggio per te. Stai sempre sul divano? Ho un messaggio per te. Ti senti depresso? Ascolta quanto ho da dirti. Sei allegro? Mmm, meglio se ascolti questo messaggio. Ti alzi alle 8? Se dai rete al mio messaggio da domani ti alzi alle 5. Anni il caffè? Ho un messaggio per te. È meglio il tè. Mangi frutta la sera, carboidrati la mattina, proteine il pomeriggio? Hai mai valutato il digiuno? Hanno tutti un buon consiglio per te. Ti portano i messaggi, come i piccioni. Ecco, volevo solo avvisarvi di non passare dal mio comune perché da ieri è iniziata la disinfestazione. Hanno messo gli altoparlanti con gli ultrasuoni, le griglie sui davanzali. Hanno sparso quel mangime che rende sterili. Mi sembrava giusto avvisarvi. Poi, per carità, se non vi danno fastidio gli ultrasuoni, riuscite ad evitare le griglie sui balconi e venite già mangiati. Ci sono io che sparo.